Nel mezzo di un borgo medievale, a pochi metri dalla parrocchia di Orta San Giulio, sorge Palazzo Penotti Ubertini, un bellissimo edificio storico avvolto in un allure mitteleuropeo. In questo contesto ricercato ed esclusivo, il vostro ricevimento noziale sarà una vera favola. Dettagli di vestigia austriache arricchiscono gli interni delle sale, come il pianoforte e le vecchie armi. I soffitti in legno, i camini dei saloni, alcuni risalenti al 500, conferiscono all'insieme un'atmosfera calda e austera, indicata per cerimonie dal gusto un po' retro. I saloni spaziosi e in particolare la sala rosa con il soffitto a cassettoni ospiteranno il ricevimento più romantico. Il buffet potrà essere servito anche nel giardino adiacente, sotto il gazebo, dove potrete anche celebrare una romantica cerimonia noziale immersi nella natura rigogliosa. A Palazzo Penotti Ubertini verrete accolti da un team professionale, esperto e competente, che vi aiuterà a organizzare un matrimonio curato nei dettagli e in linea con la vostra personalità.